Modica, una città nella provincia di Ragusa in Sicilia, è famosa per la sua cucina deliziosa e autentica. Alcuni dei migliori ristoranti di Modica includono Ristorante Duomo, situato in Piazza Duomo, questo ristorante offre una cucina creativa e raffinata con un'attenzione particolare alla qualità degli ingredienti locali. L'accogliente Osteria dei Sapori Perduti propone piatti siciliani con un tocco moderno in un ristorante accogliente. L'ampia selezione di vini è eccezionale e la scelta di prodotti stagionali è vasta. Situato in un palazzo storico nel centro storico di Modica, la Gazzaladra offre una cucina gourmet con piatti semplici e raffinati, realizzati con ingredienti locali di alta qualità. Osteria degli Sapori è un ristorante che propone cucina autentica siciliana con un'ampia selezione di antipasti, primi piatti e dolci a base di carne e verdure. Il ristorante La Contea serve cucina tradizionale siciliana con un'attenzione particolare alla selezione di prodotti locali e biologici. Spero che queste informazioni ti aiuteranno a scegliere un ristorante durante la tua visita a Modica. Buon appetito!